La notte di Ferragosto nel centro storico di Agrigento in Piazza San Francesco la conferenza stampa di lancio dell'iniziativa cosiddetta IAB i dettagli e le interviste. Irene Milisenda Sarà una cosa molto breve, infatti passo subito la parola... Ad Agrigento in Piazza San Francesco è stato presentato IAB edizione 0 il festival che animerà il prossimo 14 agosto la notte di Ferragosto nel cuore del centro storico di Girgenti. Un evento che nasce dalla sinergia tra semplici cittadini. I promotori sono i due locali di Piazza San Francesco, il Moio One Bar e il Pan in Plazze con il patrocinio del comune di Agrigento e sponsorizzato da alcune realtà imprenditoriali con l'intento di creare un evento diverso dal solito con una location altrettanto diversa cercando di animare e valorizzare le vie del centro storico nella notte tanto attesa da adulti e bambini. Offrendo così ai turisti presenti in città e grigentine una serata all'insegna della musica con 10 ore non stop di dj7 accompagnate da proiezioni artistiche. Ascoltiamo nel dettaglio il direttore artistico del festival Davide Loiacono e l'assessore comunale Beniamino Biondi. IAB è l'acronimo di You Are Beautiful e non a caso è stato scelto questo nome perché ha lo scopo e il significato di cercare di stimolare il senso della bellezza, la bellezza partecipativa. Alle ore 21 inizierà uno spettacolo di estemporanea curato dai ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti. Le loro rappresentazioni verranno poi installate lungo la via Pirandello. mentre alle 11 di sera inizierà l'evento locomotiva che è costituito da quattro dj7 è un lavoro visual e di mappatura in 3d di tutta la piazza della facciata della chiesa di San Francesco. Un'iniziativa che vuole riportare nel cuore antico della città una festa che di solito è pensata sempre sulle spiagge. È un modo per dire alle persone di rimanere aggirgenti anche la serata del 14 agosto, con un'iniziativa che coinvolge numerosi momenti artistici e musicali. Sarà soprattutto pensata e realizzata in piazza San Francesco ma si produrrà anche nelle vie circostanti, soprattutto sulla via Pirandello in cui saranno esposti alcuni pannelli sui quali degli artisti potranno esprimere la loro arte e la loro espressività.